La Corte federale d'appello preseduta da Mario Luigi Torsella ha respinto il reclamo del Monterosi Tuscia, confermando i due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitti lo scorso 29 marzo al Tribunale federale nazionale. La società era stata deferita su segnalazione della Covizoc per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di settembre ottobre 2022. Una sentenza che non andrà a inificiare sui play-out, almeno per il momento, in attesa del ricorso della Viterbesia, che si discuterà il giorno 11 maggio 2023. Tira un sospiro di sollievo alla Turris, che era in attesa di conoscere l'esito del ricorso della formazione della Tuscia. In effetti, la Società di Torre del Greco, non appena pubblicata la sentenza, ha emesso un comunicato dove sottolineava la fine degli allenamenti per il gruppo squadra, rimasti in città in attesa dell'esito. Quindi, per effetto della sentenza, la Turris acquisisce definitivamente il diritto a partecipare al campionato di Serie C nella prossima stagione sportiva. Da domani saranno interrotti gli allenamenti e i calciatori potranno raggiungere le proprie residenze. Queste le parole evidenziate nel comunicato della società Corrallina. Insomma, stagione finita per la Turris, guidata da Riccardo Maniero, che dopo una settimana in più di lavoro, adesso potranno godersi il meritato riposo. Intanto, Primi Cile ha salutato il gruppo dopo sei lunghi anni. Il direttore adesso dovrà scegliere tra le varie offerte pervenute sulla sua escrivania e il progetto che lo stimolerà di più.